Stefano Cavalli, la Lega Nord anche in consiglio regionale continua la lotta contro l'euro e contro il potere centrale? Credo che la Lega Nord in questi quattro anni di nostro mandato abbiamo sempre battagliato per le battaglie che la Lega come movimento federale ci ha fatto portare avanti, noi in prima linea, soprattutto perché credo che la battaglia dell'euro sia una battaglia a favore dei cittadini, soprattutto a favore delle famiglie bisognose, perché in questo momento sono soprattutto le nostre famiglie, i nostri giovani, i nostri anziani che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese e con una nuova moneta, non chiamiamola Lira, chiamiamola con un altro nome, ma deve dare risorse ai cittadini per ritornare a spendere, fare già l'economia e soprattutto dare quella felicità ai cittadini che può avere la possibilità di portare la propria famiglia a mangiare una pizza, un ristorante o fare un viaggio per essere ancora quella padagna libera e indipendente anche a livello economico.